When you get into the plane, don't feel any anxiety, don't feel scared because you have no reason to be scared, because it's really an amazing experience and you will find a lot of really nice people. From L'Aquila with Love, cartoline dall'Aquila, l'evento nasce con lo scopo di presentare ufficialmente il documento Quorintes Cambio Aquilasmus di Giovanni Sfarra, una conferenza che vuole essere un motivo di incontro e confronto tra le varie realtà interculturali che ruotano intorno alla formazione e fondamenta del progetto Erasmus. In occasione dei 30 anni dalla nascita del progetto Erasmus e dei 10 anni dalla nascita dell'associazione Aquilasmus verranno esposti traguardi raggiunti sinora e progetti futuri. Durante l'incontro si avrà modo di ascoltare le esperienze e testimonianze dirette di alcuni ragazzi Erasmus che stanno vivendo la loro esperienza di studio all'Aquila. Il format della conferenza non vuole essere troppo formale, il tutto sarà intervallato dall'esecuzione e dal vivo di alcuni brani musicali. Al termine dell'incontro verrà offerto un buffet, composto anche da pietanze tipiche dei paesi di provenienza di alcuni ragazzi Erasmus. L'intero evento sarà trasmesso in diretta sui social Facebook e Youtube. L'obiettivo è quello di considerare il cortometraggio come uno dei punti di riferimento per informare e promuovere il territorio attraverso questa importante realtà, diffondendolo principalmente su canali istituzionali come il Comune dell'Aquila, l'Università, il Centro di Cinematografia e l'Accademia delle Belle Arte, potete distenderlo anche al network nazionale ESN Italia. Il cortometraggio è stato realizzato e c'è anche un trailer introduttivo che ha raggiunto migliaia di visualizzazioni in pochissimi giorni. L'evento si terrà martedì 27 marzo alle ore 18 nell'aulamagna del Dipartimento di Scienze Umane. Il documentario Cuore in Intescambio Aquilasmus è stato realizzato grazie alle testimonianze dei ragazzi del progetto Erasmus che hanno soggiornato all'Aquila durante il 2016 e il 2017 a quelle dei volontari dell'associazione Aquilasmus che li hanno accolti, accompagnati per tutto il periodo di permanenza. Attraverso interviste di immagini con momenti di vita quotidiana si è voluta trasmettere l'atmosfera che si vive all'interno dell'associazione e come viene percepita la città dell'Aquila da parte dei ragazzi Erasmus. alla fine è come se avesse avuto un'evoluzione interiore enorme.